Bari, cosa c'è di vero in questo scambio? Per quanto riguarda nulla, perché non ho messo nulla. So solo della grande stima che c'è tra l'Olanda e l'Oltrano, e l'altra stima che viene dalla legge d'Oltrano, perché sono più vinciani che non si conoscono, però per quanto riguarda questo scambio, non ho messo nulla. Io non c'è un giocatore, per cui non conosco le iniziane legate a mattina. Rolando Bianchi partirà dalla Verugia oppure continuerà di nuovo? Rolando Bianchi è un programma degli appuntamenti apriti con la società. Sicuramente è andato bene, è a voglia di far bene, in questa prima parte la sua carriera è a voglia di battagliare, per cui la società non lo metterà al centro del progetto, vedremo di confrontarci, è una situazione migliore. C'è stato un contatto tra Colantuono ed il ragazzo, oppure soltanto attestati di stima tra i due? No, non so che si sentono ogni tanto, perché comunque la carriera reciproca l'un lato, quindi qualche stante c'è, non so e non credo, visto le qualità di pensare che si sia abbattato di mercato. La piazza di Bari sarebbe gradita dal suo assistito? Si è venuto a Bari un patino, perché Bari è il calcio. Poi ci sono anche tante componenti che si spondano, si spleggiano, sono stati molto vicini, ma non ha fatto proprio a Bici Ancara, non ha fatto il tetapoli, si erano fatte altre scelte, però la piazza di Bari è la piazza più significante, quindi è merito di stare da dove deve stare, in altre categorie. La ringraziamo, grazie mille. Grazie a tutti.